Come annunciato dal bollettino della protezione civile di ieri, un'ondata di maltempo ha colpito quasi tutta la Puglia, con forti temporali che hanno provocato anche ingenti danni. Un violentissimo nubifragio si è abbattuto a Monopoli in zona Capitolo, l'enorme quantità di pioggia ha allagato strade terreni causando non pochi disagi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e delle altre forze di polizia per portare in salvo persone e automobilisti intrappolati nel fango. Due ragazze rimaste bloccate in auto in una strada di campagna sono state salvate da due agenti del commisariato locale che hanno raggiunto l'auto affrontando a piedi il flusso d'acqua straordinario. Molte case di villeggiatura sono state allagate e alcune delle spiagge più rinomate del litorale sono state invase dal fango. Bomba d'acqua anche nel Fuggiano. Sono stati almeno una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per far fronte ai numerosi allagamenti di box, scantinati e abitazioni al pian terreno. Completamente inondato, il sottopasso di via Scillitani chiuso per l'emergenza maltempo. Lunghi blackout e continui sbalzi di corrente sono stati registrati in vari quartieri. Tratti in salvo, senza gravi conseguenze, alcuni automobilisti rimassi intrappolati con l'auto nel fiume di Acquapiovana. Un violento nubifragio si è abbattuto anche a San Giorgio Ionico, dove qualcuno ha pensato bene di farsi un gino in gommone per la città. Stando ai dati della protezione civile della Puglia, nella città Tarantina, fino a ieri sera, sono stati registrati 100 mm di pioggia.